Ancora firme per il referendum contro l'autonomia differenziata nel Golfo di Policastro. Questa volta il Movimento 5 Stelle ad organizzare la raccolta con una doppia data. Dopo le diverse iniziative organizzate nel Cilento e il banchetto allestito questa sera a Sapri, domani toccherà a Scario. Insieme al gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania, saremo a Scario in Piazza Immacolata, sempre dalle 20 in poi. Per la raccolta firme, per il referendum abrogativo contro l'autonomia differenziata. La riforma Calderoli che distrugge definitivamente il Sud con gravi ripercussioni economiche anche per le regioni del Nord. Una battaglia di democrazia che ha uno scopo anche informativo, visto che a livello nazionale sono state superate le 600 mila firme. E ne testimonianze il fatto che in questi giorni di banchetti informativi, in tutti i comuni del Cilento, stanno partecipando centinaia di persone.